Siamo risaliti con il numero di pazienti ricoverati in rianimazione su una fascia di età che è quella abbastanza giovane, non vaccinata o che in un paio di case ha fatto solamente la prima vaccinazione per cui l'obiettivo è quello di arrivare sia all'80% dei pazienti vaccinati in doppia vaccinazione. Vista l'aggressività della variante Delta è importante anche andare oltre questo limite qui e soprattutto andare anche a stimolare la fascia più restiaca, quella dei 50-60 anni che avendo molte relazioni sociali possono facilmente determinare la diffusione del virus. È stato in prima linea per un anno e mezzo contro una pandemia che ha tolto anche le più basilari certezze a tanti medici. Marco Ferri, primario della rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo, andrà in pensione tra meno di 48 ore. Come del resto ci aveva detto anche nell'estate 2020 il Covid ancora picchia duro. Fa malissimo, il Covid fa malissimo. Non è che non ci sono variazioni da un punto di vista, anzi dovessi dire alcuni quadri sono anche peggiori di quelli che vedevamo. Comunque è sempre un quadro che ha una sua espressione personale. In alcune persone l'abbiamo visto bene, ma l'hanno imparato tutti. Qualche d'uno è asintomatico, qualche d'uno è paucisintomatico, una forma di tipo influenzale o raffreddore, in qualche d'uno ha un danno enorme al polmone, o al fegato, o rene, o cuore, o cervello, eccetera, eccetera. Quindi ognuno si esprime la malattia per quello che è il suo organismo. Quindi è difficile andare a inquadrare questa patologia. Non è la patologia, non è l'infezione da legionella che so che prende la polmonite da legionella, non è questo. Quindi è qualcosa di completamente differente. Fronteggiare il Covid è stata dunque la sua ultima straordinaria esperienza professionale. Ora ne comincia un'altra all'interno della misericordia di Arezzo. Il mio primo servizio da medico, ci confessa davanti ad un caffè, fu proprio all'interno di un'ambulanza, una delle prime, con medico a bordo. Adesso, ci dice scherzando, avrò più tempo per fare qualche concerto. Ferry ha infatti la musica tra le sue grandi passioni e proprio durante il Covid, ha composto Wake Up, un brano che parla di rinascita, risveglio, dopo un brutto incubo come quello vissuto nelle corsie dell'ospedale San Donato. Insomma, le strappiamo la disponibilità a un'intervista decisamente più lunga, quando questa pensione sarà ormai certificata. Però che cosa si lascia dietro le spalle dopo così tanti anni di esperienza? E' questo anno e mezzo così straordinario. Un grande abbraccio a tutti, a tutti i colleghi, collaboratori, tutti dai medici, infermieri, ossa. Ma poi in questo periodo qui, tanto che è stato dato da tutto il resto, che fa da contorno dell'ospedale che non viene visto, che sono gli uffici tecnici, sono gli informatici, la farmacia, e la direzione sanitaria, ovviamente. Quindi tutto un sistema che si è stretto per cercare di raggiungere un obiettivo. E intanto curare, e curare quelli che si sono ammalati, e fare propaganda positiva per quelli che debbono ricevere il vaccino, che è l'unico sistema, insieme a maschere e distanziamento, che ci può permettere di contenere, se non di abbattere completamente il virus. I woke up this morning, how lucky, I woke up this morning too.